Siamo la banda riciclante, siamo composti da una serie di supereroi, abbiamo Akisum che come si vede è quello che fa a sentire le cose, supereroi musicali, del riciclo musicale, Voda, Vegas e MacMick, l'uomo macchina. Io sono Itto, ognuno di noi ha un superpotere sul riciclo e sulla spazzatura. Questa marcia segue due giorni di formazione dopo un giorno di pulizia della spiaggia, la realizzazione di alcune opere artistiche e dei laboratori. I ragazzi della prima A, prima B, prima C saranno investiti oggi nel titolo dei supereroi del riciclo. Sì, è la prima tappa del nostro progetto, Bando Riciclante 2019, che ha il titolo di lotta al piccolo rifiuto. Il nostro progetto di quest'anno si incentra soprattutto nel sensibilizzare i ragazzi, i giovani, che saranno poi gli adulti di domani, come si dice sempre, sul problema dell'inquinamento dei fondali marini, delle acque dei fondali marini e soprattutto dell'eccessivo uso della plastica. Iniziamo le nostre attività, che durano in tutto tre giorni, con una pulizia della spiaggia, una raccolta dei rifiuti e poi una realizzazione di installazioni artistiche. Giusto per dare un messaggio ai ragazzi che non tutto quello che noi buttiamo, decidiamo di buttare, sia necessariamente scarto, ma può essere anche qualcosa da cui nasce una bellezza, un risultato estetico bello. Sì, è la prima tappa del nostro progetto, un risultato estetico bello. Sì, è la prima tappa del nostro progetto, un risultato estetico bello. Sì, è la prima tappa del nostro progetto, un risultato estetico bello.